Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo sul Brossos dove stiamo nella parte 2 in cui cerchiamo di recuperare Energetic Oggi, in questo video lo sto registrando sempre di sera Però questo video non lo vedrete alle 22 e un quarto Ma bensì alle 22 e 45 verso le 11 quindi Riesci a fare la kill, non so come però, per fortuna Niente, non mi va il catch Ok, non va Mentre ragazzi, qua ci sono tutti i camperoni Iniziamo benissimo Cambiamo mappa Proviamo annientamento Che non ho mai fatto un video in annientamento Nei video Adesso proveremo e vedremo se ci porterà fortuna Ah, già quattro ce ne ho mai Ma come doppia? Se io appena ero caduto Non eravamo ucciso, non so come Vabbè Allora, vediamo un po' se riusciamo Combinare qualcosa Vediamo sto mortis Bella questa Credo che c'è mancuno solo E niente, guarda la vecchia Ho fatto roba incredibile Ok, raga Direi che secondo me Annientamento Mi sa che Sarà il video del giorno Direi Ovviamente Da come leggere Nel video Nel titolo Sarà Energetic OP Parte 2 Ma non annientamento Però qualche volta farò qualche video Di solo annientamento Raga Perché ho visto che l'annientamento è troppo forte È troppo forte Ma anche Queste carretti C'è Però queste carretti Non è che mi piace tanto Non ci sono morti Per fortuna Ma ho incontrato di nuovo Col Frank Di prima Vabbè Però Vabbè Sperando di non fare Ma sono di prima Ok Intanto stiamo 3 2 Per noi Sperzioni Quanto c'hanno che morire Vai vai Ok Niente Ricazzo Ce ne mancano 4 Cioè Ce ne mancano 4 Che squadra Che fai Ok Eh sì Guarda C'è un'altra C'è un'altra C'è un'altra C'è un'altra C'è un'altra D'accordo E Frank Non ci vorrei Niente Ci hanno da morire Niente Mi danno Ovviamente Personaggi scarsi Ma non ci posso fare niente 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 Vabbè Raga Proviamo Altre 2 3 Partite E direi che Il video finirà qua Raga voi consigliatemi sotto nei commenti Se dovrei portare anche qualche video Di corsa di carrelli Perché a me Ditto sinceramente Non mi piace tanto Corsa di carrelli Mi piace più Andintamento Tanto qua Non ho visto la squadra avversaria Non era Niente E qua si mettono a camperare Beh loro per ora hanno fatto Eh Ok Hanno fatto anche noi Per esplorare C'è due pari No Raga Vai 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 Raga ma che cosa sta combinando l'Edgar Che non ha fatto manca una kill su di noi Ok Niente Raga mi fa Il touch non mi va bene Se bravo Non so perché Ok raga Vinta Direi proprio Non proprio easy Però direi che All'incirca stavamo lì Adesso Cercheremo di vedere Come andrà questa partita Io spero bene Che non mi dia Un abbi Ma almeno I player Non abbi No però Ma l'importante è che siano player Che non stanno fermi Che non team Ok Qua li vedo Seri Niente Raga Cioè raga Avevo premuto il gadget Niente Non mi aveva fatto no Ma Che l'ha vista Mortis Ok raga Finalmente l'abbiamo ucciso Dai Ok Ok Dobbiamo recuperare Non è un po' difficile Infatti si nova Raga Dai 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 E noi Mi stiamo due grillinino Rispetto Alla nostra scuola Non stanno più Oh ma perché Li tacci mi va Dove so se mi vuole far perdere Bella questa Bella questa bellissima Raga Forse riesco a fare No Però raga Non sapete Che giocato ho fatto Però spero che i miei compagni non fanno No raga Sbagliato 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 Quindi raga E ora c'è Una problematica Di perdere Ma che ve lo sapete Ma che ve lo sapete Timme accettabile Direi Ok Sono morto Però comunque ho fatto La kill Cioè che siamo due fuori Non c'è Bombard... Eh... Non c'è Non c'è Fatto a morire Non è vero Vedo Sono riuscito a fare La kill Come Che è grande Da Anna Mike Ha fatto un grande stun Mentre però Mi ha già andato a morire Come raga Come raga abbiamo perso Ma i miei compagni che stanno facendo Raga Cioè Direi che stanno dormendo Mentre raga Direi che... Direi che i miei compagni Stanno seriamente Dormendo Eh sì Quante bombette Raga ci sono Non è scendere di vincere Questa... Tira Che colpito E' un bel raga Non è scendere di vincere Così tanto Non è scendere di vincere Non è scendere di vincere Quindi direi che la luminosità Bisogna abbassarla Ah ma non è la luminosità Raga Perché proprio ho il telefono Quando mi ha incarico Niente raga Quindi direi che Quando va sotto la raga Direi che rallenta Niente raga Guardate Manco non va Sì raga Ma mi fa stare ferma Quindi raga Direi proprio di Così perché Sennò Oh raga Comunque mi sta continuando All'allaggare Non so perché Un po' se riusciamo Grande Bella Raga Niente raga T'ho riuscito Però Almeno siamo Sei pari Sei pari Accettabile Questi miei compagni Non fanno Ok Oh raga 30 secondi rimanenti Dai raga E si gode Ok raga Direi che Questa Questa parte Si sono state Ben equilibrate Direi che Direi che Noi abbiamo Iniziato a registrare Da questa sopravvivenza Quindi direi che Abbiamo fatto Un meno 14 Un più 8 Andiamo Andiamo A Aspettate Andiamo A Meno 6 Coppe Meno 7 Meno 6 Meno 7 Sarebbe Un Meno 13 Meno 13 Meno 20 E direi che Raga Siamo un po' Sul negativo Vabbè Raga Spero che Questo video Vi sia Piaciuto Lasciate un like E noi ci vediamo A un prossimo video Ciao Ciao